Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Una questione privata è un libro, prima parlavate delle scuole, degli studenti che faticano a conoscere la nostra storia più recente, a volte i romanzi possono aiutare almeno quanto i libri di storia, possono aiutare perché i romanzi sono la storia sentimentale dei paesi, la storia emotiva anche. È una questione privata, è tutta l'opera di Beppe Fenoglio, è davvero, come diceva Italo Calvino, la guerra partigiana così come è stata. Quando fu pubblicato questo libro meraviglioso, che appunto io consiglio a tutti i ragazzi, guardate, date una questione privata a un 17enne, a un 20enne, a un 16enne e si innamorerà perdutamente di Beppe Fenoglio, di questo romanzo e anche della storia del nostro paese, capirà da dove veniamo. Perché una questione privata, quando invece ovviamente la resistenza alla guerra partigiana fu tutt'altro che una questione privata? Perché Beppe Fenoglio comincia da una storia sentimentale, la storia di Milton, Milton è il nome di battaglia appunto del partigiano che ne è protagonista, che è innamorato di Fulvia. Solo che sospetta, quindi c'è un triangolo amoroso come tanti ce ne sarebbero stati nella letteratura e nella cinematografia del secondo novecento, sospetta che un suo compagno partigiano, che si chiama Giorgio, abbia avuto una storia con Fulvia. Solo che Giorgio è stato catturato dai nazifascisti e quindi compito di Milton sarà catturare un fascista per fare uno scambio di prigionieri. Da una parte salverà l'amico, ma subito dopo averlo salvato cercherà di capire qual è la sua situazione sentimentale, cioè se sul piano privato l'amico l'ha tradito con la sua innamorata. È un romanzo bellissimo perché poi attraverso una vicenda privata, che è quella a cui noi ci appassioniamo quando leggiamo i romanzi o quando leggiamo i film, stiamo proprio dentro la storia. Beppe Fenoglio fu partigiano, tra l'altro una cosa interessante, Beppe Fenoglio fu partigiano ma non comunista, anzi ebbe molti problemi da questo punto di vista. Su questo voglio arrivare con te Nicola, perché tu ne hai spesso parlato dei problemi incontrati da Beppe Fenoglio. Tra l'altro mi viene in mente anche un altro romanzo, in cui l'espediente della vita privata e della vita affettiva viene usata per disegnare invece un quadro sociale, politico e storico ben preciso che è la ragazza di Beppe di Carlo Cassola, in cui a un certo punto il protagonista dice non si può essere cattivi se si è conosciuto la sofferenza, perché una volta che qualcuno ha conosciuto la sofferenza non può volere il male di nessuno. Fenoglio in che cosa ebbe problemi nel raccontare questi aspetti e nell'essere un partigiano che non simpatizzava per una determinata parte politica? Allora, Fenoglio aveva un problema, diciamo così, speculare al problema che noi abbiamo oggi. Fenoglio stava con i Badogliani e quindi, proprio perché non aderiva alla retorica del Partito Comunista, durante la vita fu proprio stroncato dalla critica, fu stroncato i 23 giorni della città di Alba, che furono nel suo esordio, fu stroncato dall'unità, che appunto lo definì uno scrittorucolo, quando invece era un grandissimo scrittore, perché appunto descriveva la resistenza come una guerra civile. All'epoca la parola guerra civile neanche si poteva dire. Tra l'altro, come nei grandi poemi caravallereschi, lui ovviamente divide fra buoni, cattivi, fra bene e male. I nazifascisti sono il male. Ma lui ha sentimenti di pietà anche nei confronti dei giovani fascisti e repubblichini che vengono ammazzati. Allora, all'epoca c'era il problema che, essendo non comunista, Beppe Fenoglio è come se non avesse diritto di cittadinanza o pieno diritto di cittadinanza nella letteratura dell'epoca. Oggi abbiamo invece il problema contrario. Cioè, alcune destra, alcuni esponenti della destra, ci vogliono far credere che la parola antifascista sia sinonimo di stalinista. Quindi abbiamo il problema completamente opposto. E invece dobbiamo far capire che l'antifascismo, come dicevo prima, appartiene a tutti quanti. Peraltro Fenoglio votò, come dicevo prima, votò monarchia quando ci fu il referendum. Quindi era monarchico e però fieramente antifascista.